Bentornati amici di MyFootballJersey Oggi vi mostro questa splendida maglia dell'Argentina Questa è la nuova, non ancora ufficiale Per la prossima stagione è la 24-25 Quella che verrà usata in Coppa America Ovviamente in versione fun Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Voi cosa ne pensate della maglia? Io in tutta onestà vi dico che a me per il momento piaceva più quella dell'anno scorso Questa poi tra l'altro ricorda non è ancora ufficiale Dovrebbe essere quella che verrà utilizzata per la prossima stagione Ma staremo a vedere Bellissima diciamo così comunque la qualità Ottima la qualità delle finiture in oro Ma quella dell'anno scorso che mi riporta alla mente La vittoria del mondiale per me era un'altra cosa Costo molto basso Che come al solito avete visto sullo schermo Vi ricordo che nei dettagli trovate Nei riferimenti per avere un coupon da 3 dollari Quindi ancora più attaggiosa E prima di lasciarvi come al solito Vi ricordo di iscrivervi al canale Grazie a tutti